Oggi pomeriggio leggiamo insieme Sono papà Schnapp e queste sono le controstorie che preferisco. Ideate, scritte e disegnate da Tommy Ungerer. Edizioni Cliché. A Yvon Coniglio Cazzaniga va a pesca. Non ne ha il permesso. Ma chi gli dice niente? Non ci sono pesci nel lago. Dopo una lite furibonda con i genitori, il piccolo Arturo Topper se n'è andato di casa portandosi dietro la vasca da bagno. Si è imbarcato. Dopo tre settimane e due giorni di quieta navigazione ha provato la sua nuova fionda contro una corazzata. Il conte Lonza è famoso per le sue impavide esplorazioni in terre lontane. Va a caccia di piante selvagge che poi cattura e addomestica. Sulle penici occidentali del Chilimangiaro trova finalmente la più rara di tutte. La carnivora gigante pedofagia spinata. Dopo innumerevoli avventure, il conte Lonza torna a casa con la sua preda. Ci sono voluti anni e anni di duro esercizio, ma infine ha addestrato la pianta a esibire in pubblico i suoi giochi di abilità. Per i quattro fratelli terremoto, tromba, trombetta, trombone e trombosi, non c'è cosa più bella che soffiare nei loro ottoni. Fanno un rumore terribile. Tutti gli inquilini della casa hanno dovuto traslocare. Non riuscivano più a sopportare quell'orrendo chiasso. «Perfetto!» ha detto Trombosi, il più vecchio dei fratelli. «Adesso abbiamo la casa tutta per noi!» I coniugi picchioli sono andati in città a comprare un nido nuovo. Hanno trovato quello che desideravano dal miglior nidologo locale. Era un modello nuovo di zecca, fornito di impianto idraulico e uova. La consegna è stata puntuale, direttamente sull'albero dei picchioli fuori città. Ma già dopo una settimana il nido ha iniziato a cedere. Le uova hanno iniziato a marcire e a far acqua. L'impianto idraulico era inutilizzabile. Era fatto da un solo pezzo di tubo con un rubinetto. «Ecco cosa succede quando si inizia a spendere soldi!» ha pensato tristemente il signor picchioli. Il signor Schiacciasassi ha regalato a sua moglie Retina un rullo compressore per il loro ventesimo anniversario. Lei lo usa per stirare la biancheria e per tirare la pasta della pizza. Nel fine settimana ci salgono sopra e vanno a trovare la madre del signor Schiacciasassi, che vive in montagna ed è costretta a letto. Quando il signor Fogna va nel suo ristorante preferito, ordina tutto quello che c'è. L'altra sera si è ingozzato talmente tanto che, uscendo, ha sfondato il pavimento. Il signor Rancio è andato dal suo medico, il dottor Stigma. «Dottore!» ha cominciato a lamentarsi. «Non riesco a respirare! Ho la gola otturata e sento dei dolori al petto, come se avessi un fuoco dentro!» Il dottore l'ha fatto accomodare nell'apparecchio a raggi X e ha esaminato l'interiora del paziente. «Ha un sottaceto incastrato nella vena cava e i gangli del simpatico sono tutti aggrovigliati. Eccole la ricetta!» ha detto il dottore. «È una canzone per sottaceti. La canti tre volte al giorno prima dei pasti. Arrivederci!» La ricetta non ha funzionato e il signor Rancio si è aggravato. Fino ad ora ha già avuto bisogno di due letti e tre infermiere. Il signor Limpido è cieco. La signora Limpido è zoppa. Sono anziani. Sono felici. Lui a lei e lei a lui. Zio Ivan non credeva ai draghi, fino a quando non ne ha trovato uno dietro a un trattore abbandonato. Era mal ridotto, debole e tremante. Zio Ivan se l'è portato a casa e l'ha nutrito con fiammifere e legnetti da ardere. Con questa ottima dieta il drago si è prontamente ripreso. L'animale riconoscente ora svolge servizi estremamente utili. Accende i sigari di zio Ivan, fa il fuoco in casa ogni mattina e tiene in caldo le pentole. Tutte le mattine il signor Cavoltubero corre alla stazione e tutte le mattine perde il treno. In sette anni non è mai riuscito a prenderlo quel treno. L'orologio della stazione è sempre cinque minuti più avanti del mio, dice lamentandosi. Ma almeno così non devo andare a lavorare. Il signor Pista Mia ha comprato una macchina nuova. Ha moltissimi cilindri, cambi dentati coordinati, freni a ganascia assortiti, due acceleratori, i sedili in pelle di cobra, un radar che segnala la polizia, due fari scintillanti e una quantità indefinita di super super extra. Quando il volante si sente molto bene, ma il giorno in cui ha sbattuto contro un albero si è sentito male. L'aereo del capitano Asso de Vertigine è stato colpito duramente in una violenta battaglia. aveva già abbandonato il velivolo quando si è accorto di aver dimenticato il paracadute sotto il sedile. Giuro che è l'ultima volta che dimentico il pa... Splash! Santo Cagliacco ha esclamato Andrea Eschimo mentre tornava dal supermercato un mercoledì pomeriggio dopo una lunga giornata di lavoro alla fabbrica di gelato. A quattro miglia lungo la strada, a sinistra al secondo incrocio, dopo la stazione di servizio rosa che ha cambiato gestione visto che nessuno della zona fa benzina, ma vanno tutti correnne e cani da slitta, che è pure una benedizione se si pensa a quanto fanno rumore le motoslitte e che è una delle ragioni per cui la nuova gestione ha mutato la stazione di benzina in una biblioteca per anziani. Santo Cagliacco ha esclamato Andrea Eschimo, c'è un elefante nel mio iglù. Ogni giorno, che piova, nevichi o splenda il sole, va sulla spiaggia e arriva al mare, siede su uno scoglio a leggere o a sognare. Non ha amici, non ha nemici, nessuno lo conosce, nessuno sa niente, nemmeno il suo nome. Un giorno, Papa Schnapp ha sentito parlare di un divano molto famelico che apparteneva a un certo signore Mulk. Se ne potrebbe trarre una meravigliosa controstoria, ha pensato. Quella sera stessa, Papa Schnapp ha fatto visita al signor Mulk e da allora nessuno lo ha più visto. A domani con un'altra storia.